Quando ci allontaneremo dalla Terra, passeremo attraverso la cintura banale, un'area di pericolose radiazioni. Radiazioni come queste possono rovinare il sistema di guida, dei computer ed altre apparecchiature elettroniche. Naturalmente dobbiamo passare queste pericolose radiazioni due volte, una all'andata ed una al ritorno. Ma Orion ha le protezioni, ha degli scudi che testeranno e faranno rimbalzare dal veicolo le radiazioni. Ma Orion ha le protezioni, ha degli scudi che testeranno e faranno rimbalzare dal veicolo le radiazioni. I sensori di bordo registreranno le radiazioni che saranno studiate dagli scienziati. Dobbiamo risolvere questa sfida prima di inviare persone in questa regione dello spazio. Dobbiamo risolvere questa sfida prima di inviare persone in questa regione dello spazio. Dobbiamo risolvere questa sfida prima di inviare persone in questa regione di spazio. Robbiamo risolvere questa sfida prima di inviare persone in questo momento. Obbiamo risolvere questa sfida prima della soluzione. But you fight it, and we love it We can't go to space, it's just a ruse But you fight it, and we love it Use your thoughts on gravity and the stars beneath the sun Photos lost conveniently, even though we took a ton We're on Mars, we're cruising zero G On the air by state 300, we cannot go We cannot go Where's the eye of the snow? Color, who buys that hair too anymore? So many gatekeepers, so grounded Liars don't need you, work alone We can't go to space, it's just a ruse But you fight it, and we love it Oh, we can't go to space, it's just a ruse But you fight it, and we love it Oh, we can't go to space, it's just a ruse But you fight it, and we love it Oh, we can't go to space, it's just a ruse But you fight it, and we love it Oh We can't go to space, it's just a ruse Oh, we can't go to space, it's just a ruse Oh, we can't go to space, it's just a ruse Grazie a tutti 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 Grazie a tutti